con il mister rossi per commentare questo pareggio per 0 a 0 dell'italia san marco con la virtus corno mister anche in 10 tuoi nel secondo tempo però propositivi volitivi e la traversa dice che potevate forse potete forse decriminare ma sicuramente sì nel secondo tempo diciamo che nonostante l'inferiorità numerica abbiamo tenuto molto bene e abbiamo avuto anche le occasioni per fare gol chiaramente in queste situazioni essendo in 10 si fa un po di fatica portate sulla palla a creare un'occasione da gol ma quelle due tre che abbiamo fatto le abbiamo fatte bene le abbiamo create bene e c'è stata diciamo così solo la sfortuna che ci ha messo un tampino di nuovo mister è un esimo pareggio ancora nessuna vittoria per questa italia san marco però va detto che non ha mai avuto la squadra a completo quest'anno per cui anche complicato per te gestire questa situazione sì soprattutto dietro abbiamo avuto qualche defezione specialmente all'inizio quando mancavano i due terzini adesso abbiamo recuperato via il veneruso non abbiamo ancora recuperato adesso abbiamo ostoic da recuperare speriamo che non sia una cosa lunga e perché non sono mai riuscito a mettere la linea difensiva che era diciamo così prevista all'inizio del campionato comunque devo dire che chi ha giocato soprattutto Savic in questa occasione ha fatto molto bene e sono molto contento per lui davanti c'era i etri che lottava da solo praticamente contro l'intera difesa forse della della virtus corno gli dava una mano tunis però lì ti manca peso proprio in attacco effettivamente siamo alla ricerca di una prima punta in modo che ci possa dare una mano in queste situazioni qui perché effettivamente alessandro si dà da fare ha delle buone caratteristiche però ha bisogno di essere accompagnato da una prima punta di peso che gli possa servire il pallone di scarico prossima partita mister andiamo a tolmezzo e quindi cercheremo di andare a prendere i punti che non abbiamo costato qui di andare a prenderli a tolmezzo perché la squadra oggi si è dimostrata con carattere anche con determinazione e ho visto un virtus corno se effettivamente una una buona squadra con delle buone vinte in dualità con il mister casadio per un pareggio tra i tra san marco e virtus corno una virtus corno che nonostante la superiorità numerica nel secondo tempo non è riuscita a finalizzare il vantaggio mister hai ragione per assurdo abbiamo giocato meglio abbiamo avuto più occasioni 11 contro 11 cerco di darmi solo una spiegazione probabilmente la foga di voler fare risultato e non non andando a concludere invece con le azioni che abbiamo fatto il primo tempo probabilmente questa superiorità ragazzi psicologicamente pensavano che ognuno da solo risolvesse invece non si risolve da soli si risolve con le azioni che abbiamo avuto anche in precedenza e che non siamo riusciti a concludere e poi perché il calcio è così in inferiorità numerica pulita la sua marca ha avuto l'occasione anche per vincere la partita e quindi alla fine voi vi siete salvati va ha detto che comunque un sacco di assenze motta gasci tanta gente che ti è mancata oggi motta gasci bozzicco me ne gonzi infortunato però come ho detto a loro io ho questa rosa i giocatori sono questi e quindi con gli infortunati non si fanno punti assolutamente e quindi questi sono ragazzi che giocano bisogna dargli merito comunque che l'impegno c'è quindi rimanati con loro spero il prima possibile di riuscire a recuperare la volontà di tutti più giovani più giocatori e comunque un altro punto per la virtus corno salite 8 fate fatica forse a far gol però insomma continuate anche a non prendere oggi è importante fare punti perché domenica abbiamo ricevuto anche complimenti tutti contro il corde non se ma abbiamo fatto zero punti e già la terza volta mi succede di ricevere i complimenti di non portare a casa niente è probabilmente serve tutto servono le partite come oggi anche per tenere una squadra che anche se presto sotto di noi serve per il morale e comunque continua lo stesso che dico sempre che dobbiamo continuare a lavorare perché è molto presto il prossimo turno con chions come la vedi il chions è una di quelle squadre che è stata costruita ma questo non dico io dico i nomi dei ragazzi che che hanno in rosa per per vincere il campionato fino adesso comunque anche loro hanno avuto degli alti e bassi sicuramente hanno vivono su delle dei giocatori che hanno dei colpi ma al di là delle altre squadre io devo ragionare sulla mia e pensare di recuperare alcuni giocatori che detto tu e cercare di lavorare per non fare poi degli errori come oggi o di sfruttare le occasioni palla a terra che siamo riusciti a fare oggi